con un'immagine a voi più cara. Tutto è uno attraverso Mario del Giglio. Voi sentite il bisogno di vedere i volti dei trapassati, ma quei volti come i nostri volti sono luce. Più vedrete luce, più significherà che lo spirito sarà elevato. E se nel mostrarsi uno spirito avrà la possibilità di farsi riconoscere con un'immagine a voi più cara, non dovrà essere identificato in tutto con quella immagine, in quanto in quello spirito confluisce un insieme di tante esperienze vissute nelle vite precedenti.